Sono due gli episodi di violenza in famiglia registrati in provincia di Prato questo fine settimana nel giro di 24 ore. Il primo risale a sabato mattina quando la polizia ha arrestato un trentenne pratese che si era barricato all'interno della casa dei genitori. Consì aveva un martello e non è chiaro cosa volesse farne. Lo stesso giovane era stato denunciato la sera precedente quando i poliziotti erano intervenuti su richiesta del padre e della madre minacciati di morte perché si rifiutavano di dargli i soldi che probabilmente sarebbero stati utilizzati per comprare droga o per giocare alle slot. Il trentenne è tornato alla carica il giorno seguente minacciando ritorsioni. La donna è allora corsa dal marito sul posto di lavoro e insieme hanno chiamato di nuovo la polizia. All'arrivo degli agenti il giovane era chiuso dentro casa e quando è stata aperta la porta è iniziato a minacciare di morte i due genitori. Dalla perquisizione è poi saltato fuori il martello nascosto nello zainetto. Scenario analogo a Vaiano dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato domenica un 35enne ritenuto responsabile di maltrattamenti contro la madre. I militari hanno eseguito l'ordinanza di carcerazione che il GIP ha firmato su richiesta del PM. Il provvedimento scaturisce dall'indagine avviata dai carabinieri da cui è emerso che l'uomo sottoponesse la madre a continue aggressioni verbali e fisiche. Un quadro così grave da spingere l'autorità giudiziaria ad emettere il provvedimento cautelare in tempi rapidissimi per evitare che la situazione potesse ulteriormente degenerare. Un quadro così grave. Un quadro così grave. Un quadro così grave.